Non vedo l'ora che inizi, speriamo di assistere a un match divertente, è ricco di gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Entrata pulita questa. Non bene la ripresa qui. Pelé trova, Pelé, il gol di Pelé, assegnatore. Guarda che finisce sul pan, è veramente bene, è duro il pallone, è un potenziale di barra. Pelé, il gol di Pelé. Come si vede da queste immagini, la rischiate, un po' più semplice di vissuto. Pelé trova, ed è gol! Pelé! Pelé trova, va a recuperare il pallone. Palla gol questa. Attenzione! Tre! Trasformazione perfetta. Occasione da Pelé. Pelé. Il gol di Pelé. Palla di sì, tirata sotto l'attraverso, impossibile per il portiere arrivato. La rocchiava in mezzo, attenzione. Pelé prova! Palla persa, errore banale. Pelé prova! C'è il palo, pallone ancora vivo. Si rinnova l'appuntamento con il grande calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Hierro prova a recuperare il pallone. Prova a Pelé. Un tiro che ha lasciato decisamente a desiderare questo. Spazzata via. Guadagnano metri. Intervento comodo questo per Poub. Avanza, palla al piede. Rompe la marcatura. La prende bene. Sono avanti di un gol, grazie a questa rete. Deve sfruttare questa occasione. Pelé! Pelé! Può scegliere chi servire. Numero per lui. Ha saltato l'avversario. Prova Pelé! E la mette! È stato freddissimo qui! C'è spazio, attenzione! Pelé! Il gol di Pelé! Ha segnato Orei! Si chiude qui il match con il successo della formazione di casa.